Forse gira troppo vino e di scarsa qualità in Aula. Perché, Presidente? Allora, a questo emendamento è stato scritto, presentato dai colleghi del 5 Stelle, ma è identico ed uguale a quello che aveva scritto un parlamentare del PD Sanna. E ora lo stesso Sanna e lo stesso Partito Democratico danno un parere contrario. Il partito invece di Sinistra Italiana o Sella ha appena fatto un intervento che sono contrari a questo emendamento, ma il relatore di Sella ha dato un parere favorevole. Quindi ora voterete favorevoli e avete fatto un intervento contrario. Secondo me, quantomeno, un buon dottore e finirla col vino di scarsa qualità è il minimo. Grazie. Grazie, non ho altri interventi.